Poche settimane fa, un cittadino tedesco di nome Wolfgang Weill è venuto appositamente dalla Germania su questi monti per chiedere scusa a nome di suo padre, che come soldato della divisione Goering, nota per la sua brutalità, prese parte all'accido di Monchio. È stato il suo un gesto di riconciliazione, nobile, coraggioso, di grande valore, apprezzato. Le discendenti delle vittime e i discendenti dei colpevoli si incontrano e parlano dell'inafferrabile, forse allora le ferite ancora esistenti in questo luogo possono guarire. È per questo che sono qui. Weill, cittadino tedesco ed Europa ha così concluso, ma è più fascismo, ma è più guerra. Sono parole che facciamo nostre, oggi, celebrando la ricorrenza della liberazione con lo sguardo della volontà rivolte a domani. In un'Italia libera e democratica, in un'Europa libera e democratica, unita e quindi in pace. Auguri per il 25 aprile. Viva l'Italia!